Oltre 400 bastoni in mostra al Museo Internazionale di Gignot per ripercorrere la storia di uno strumento che, da semplice sostegno nel cammino, ha assunto nel corso dei secoli i ruoli più incredibili. L'intenzione era proprio partendo dalla semplicità di questo oggetto, che è un oggetto che noi valdostani fin da piccini utilizziamo, un ramo ci accompagna nelle passeggiate, declinarlo poi nelle sue varie valenze. Nelle varie stanze infatti sono raccontate le valenze del bastone che può essere un oggetto semplice di arte popolare, ma può essere un oggetto più complesso, che toglie e mette il potere, può essere un'arma, può essere un oggetto di prestigio, piuttosto che un accessorio degli uomini degli anni 30 che chiaramente andavano in giro per la città con il bastone idoneo. Nelle 13 stanze della casaforte di Caravex, bastoni di ogni tipo, da quelli finemente lavorati in legno e osso, a quelli più antichi, dalla mazza dei giullari ai manganelli fascisti, fino ai bastoncini da sci dei campioni. E poi ci sono veri strumenti multiuso. Questi si chiamano bastoni a sistema, bastoni che in qualche modo si trasformano in qualcos'altro, visibilmente sono bastoni normali, e poi come per incanto diventano l'occorrenza, diventano un ombrello, piuttosto che una canna da pesca, piuttosto che un sedile dove riposare. La mostra sarà visitabile nei prossimi due anni ed è destinata ad allargarsi con l'arrivo di nuovi pezzi e a vivere attraverso concerti ed eventi. Non mancano reperti storici. Il pezzo più antico qual è? Abbiamo un oggetto molto bello che raffigura il bastone, che è un oggetto precolombiano, che ci è stato dato dal Museo degli Sguardi di Rimini. Io trovo che sia un oggetto molto potente, molto bello.